l'amico abbiamo un colosseo piccolo cioè ragazzi a me roma piace ma non piace io so cosa vuol dire vivere a roma nel senso caos al 2000 persone enti però però io sono undici anni che vivo qua undici anni ogni santo giorno che passo qua davanti ogni santo giorno non vengono i brividi questo abbiamo abbiamo concluso una massima della giornata ma adesso arriva a fare lo shooting non lo fa no è troppo alto mi non no 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 LIMITANI VOLTANI JOLI LIMITANI VOLTANI JOLI